Non mi trasferiscono più a Verona. Dove ti trasferiscono? Qui. Sono il vostro nuovo ispettore. Indovina che è venuto oggi in azienda per propormi di diventare suo socio. Chi? Bastianich. Come on. Chiamami Joe. Si chiama Nathan. E perché lo chiamano l'uomo degli orsi? I miei genitori erano due antropologi. Me l'hanno trovato in quella grotta. Nathan aveva cinque anni. Quindi questo Luciano Paranna starebbe inquinando l'acqua che serve per le sue bestie. Gli uomini sono peggio delle bestie. Noi siamo allevatori. Difendiamo questa terra e la gente che vive qua. Manoera, diventerà te. Che sta succedendo, Manoè? È la seconda volta che ti ci bugia. Un passo dal cielo. I nuovi episodi. Da giovedì 21.30. Rai 1.